L'Istituto Sor Teresa Valsedi Manchitella a Gela ha aperto le proprie porte in occasione dell'Open Day. Una giornata di festa per studenti e genitori. Una scuola che vuol farsi conoscere e dunque scegliere in vista dell'anno scolastico successivo. Un giorno in cui la scuola si è presentata e ha mostrato il suo lato migliore. Sor Teresa Boscarello ha presentato alla scuola la sua utenza, l'offerta formativa in generale. Credo che la prima cosa è il progetto di Dio. Chi è che entra a far parte della nostra scuola, così come tutti rientrano e fanno parte di un grande progetto che è quello che è stato voluto da Don Bosco, che è la formazione integrale dei ragazzi, dei giovani. Noi con il Carisma Salesiano vogliamo dare al territorio, a tutto il territorio, ai ragazzi di oggi un input, un qualcosa in più per la loro formazione che poi ritroveranno come bagaglio, si ritroveranno quando saranno già adulti.